Il programma deve scegliere il programma che vuoi usare, se vuoi mettere l'aluminio, scusate, l'aluminio o l'aluminio, se hai l'aluminio o l'aluminio, quando hai scegliato il programma, se vuoi prendere la misura, hai un laser in questo armi per prendere la misura dell'aluminio, l'externo, la misura e l'interno, se vuoi mettere l'aluminio e l'aluminio, se vuoi mettere l'aluminio e dove mettere il peso. In questo caso bisogna mettere 3 ombre, 3 ombre con l'aide del laser. In questo caso bisogna prendere un peso di 3 ombre e il peso deve essere nel centro della linea laser. La linea laser deve essere nel centro della linea. Quando questo è verde, bisogna mettere il peso sotto le spruzioni, se in questo caso il peso interno è zero, ma se non lo hai in posizione, clicca sul numero e si mette in automatico in posizione, scusate le ruote e vi mostrerà il laser per prendere la misura. Dopo questo abbiamo anche la possibilità di fare 3 sonari diverse, uno, due e uno qui, per fare la diagnostica delle ruote. Selezionate la procedura di diagnostica e vi mostrerà con l'aluminio interno la deformazione della ruota, con la sonari lateral la deformazione della ruota e con l'aluminio externo la misura di ruota. In questo caso la ruota di ruota di questo ruota, con anche la posizione, se vuoi, potete vedere in questa linea, queste linee sono le 12 o'clock, se vuoi vedere dove la deformazione della ruota è la maximale della ruota, mettete la linea nel punto del punto del grafico, per esempio qui, e qui hai la deformazione della ruota. Questo è il run out, scusate, non il rim. Dopo questo hai la deformazione della ruota, e dopo hai la deformazione della ruota, e questa è la deformazione della lateral. E dopo hai la possibilità di fare la procedura di match, procedura, se vuoi, potete metter la rim e la tire in una differenta posizione per ridurre la deformazione della ruota. Per ottenere la sua propria, visite www.TireSupplyNetwork.com.